Il Dio delle piccole cose è una mostra a casa Masaccio a San Giovanni Valdarno, curata da me e dedicata a giovani artisti fra i 26 e i 32 anni, per la maggior parte provenienti dall'Asia, dall'Asia estremorientale e dal sud-est asiatico. Si tratta di tre artisti più un gruppo di lavoro provenienti dal Giappone, due artisti dai landesi, un artista cinese e un artista italiana che vive proprio nel Cianti, quindi non lontano dalla sede della mostra. Il Dio delle piccole cose è una citazione che riguarda il titolo di un romanzo, dell'unico romanzo, di una scrittrice indiana, Alunda Tiroi, The God of Small Things. Il riferimento al libro non è tanto sul suo contenuto quanto sulla suggestività del suo titolo. Però contemporaneamente questi artisti condividono alcuni aspetti, alcune tematiche che vengono trattate nel romanzo della Roi. In particolare quello di appartenere a culture che hanno subito il trauma della modernità, artisti che sono isolati all'interno dello stesso territorio, che è ferito da due urgenze, quello della tradizione, del contesto di appartenenza e quello della modernità che è intervenuta in questi contesti anche di grande civiltà come la Cina, il Giappone e sotto certi aspetti anche della Tailandia, e ha stabilito un nuovo sviluppo, un nuovo principio, un nuovo inizio. Questi artisti giovani, da un lato sono ancora legati al loro territorio e alla sua cultura e dall'altro riprendono nella loro attività i modelli ormai diffusi a livello planetario dell'arte occidentale. Questo non comporta tanto per loro una volontà di essere nel mondo, di muoversi nel variegato mondo dell'arte attuale, quanto di esprimere la loro sostanza, la loro essenza attraverso gli strumenti dell'arte. Ciascuno di loro vive all'interno di un proprio mondo e il loro essere partiti da una condizione di margine, e quindi da una condizione in qualche modo sfavorevole, hanno assunto questa loro condizione come sostanza del loro lavoro stesso. Quindi quello che era una partenza svantaggiata, un aspetto negativo al loro inizio, è diventato un elemento costituitivo del loro lavoro. Sono artisti che conosco da pochi anni ovviamente e che ho incontrato durante i miei viaggi, le mie permanenze, il mio stare in questa parte del mondo, che per me è estremamente attraente e che negli ultimi tre anni è diventato il luogo dove io passo molti mesi dell'anno, lavorando come faccio in Europa, ma sotto certi aspetti con maggior piacere. Io penso che alla fine la crisi della cultura e della civiltà occidentale ha come effetto una sorta di tristezza, quella che chiamerei la tristezza d'Europa, mentre quello che trovo in Asia, in Cina, in Giappone, in Thailandia, nel sud-est asiatico in genere, è una nuova energia, ma anche un attaccamento alla terra, una vicinanza alla sostanza della vita che qui da noi è profondamente staccato, c'è un distacco da questa realtà dell'esistere dell'esperienza dentro il mondo. Gli artisti di Unita San Giovanni questo contatto in qualche modo continuano a mantenerlo e le loro opere sono proprio questa espressione di una condizione, da una parte di isolamento e di marginalità e dall'altra espressione di una volontà di affermazione di se stessi, al di là di quelli che sono i grandi trend dell'arte contemporanea, del mercato dell'arte e della moda. Ciascuno di loro afferma la propria sensibilità, una sensibilità estremamente chiusa, personale, che riflette tuttavia la loro condizione di vita là dove sono, nel territorio che ancora occupano e che si guardano bene da abbandonare, ma semmai vi ritornano. Faccio l'esempio di Jirayur Njaras, un artista da pochi anni, da appena due anni, in Thailandia, di etnia Isan, che è questa etnia che occupa una vasta area del nord-est della Thailandia, dove si parla Lao e non Thai, un'etnia fortemente discriminata e dopo 13 anni a Bangkok ha deciso di ritornare nel suo paese, a Banciotto, nella provincia di Kalasin e lì di aprire uno studio che sarà il suo luogo di lavoro, ma anche il luogo dove le sue opere saranno viste per la prima volta. Un altro esempio potrebbe essere quello di Mitsunori Kimura, che vive a Nagoya e che raramente espone le sue opere, le sue opere consistono spesso di sculture estremamente piccole, di pochi centimetri, delle volte meno di un centimetro, in pittura d'olio secca e che rappresentano proprio questo suo senso di minorità, ma contemporaneamente questo senso di attaccamento a un'esperienza vitale che è la propria. Oppure l'artista cinese Liang Yuanwei, che pur dipingendo usa anche la fotografia, nella grande tradizione della storia della fotografia che risale al modello della finestra albertiana del Quattrocento, quindi fiorentina, la pittura, il quadro come finestra sul mondo. Liang Yuanwei usando la fotografia raccorcia le distanze, la distanza di chi guarda dall'immagine guardata è la stessa tra la superficie dell'immagine e gli oggetti rappresentati. questa riduzione delle distanze, questo avvicinamento alla cosa, questo avvicinamento alle cose è qualcosa che in qualche modo riguarda tutti gli artisti che partecipano alla mostra. Quindi questo essere vicini a un'essenza, a una sostanza senza alcuna mitologia e cercando di esperirla direttamente e di trasferire questo tipo di esperienza in termini artistici con gli strumenti dell'arte. Questo loro isolamento, chiusura, questa sorta di espressione di un solipsismo individuale accentuato non ha nessun carattere negativo di rifiuto o di avversione verso il grande mondo, ma è semplicemente affermazione della loro propria stessa esistenza attraverso gli strumenti e lo strumento dell'arte. Grazie. Grazie.